Era una testarda donna del sud. Una persona determinata, una persona che sapeva quello che voleva. Mi ricordo sempre al computer che batteva sui tasti e si attorcigliava i capelli in mano. Era un'antesignale del giornalismo di guerra, di battaglia fatto da le donne. Era molto femminile, molto più femminile della maggior parte delle giornaliste che andavano a seguire conflitti, che andavano al fronte. Era un inviatore, era una giornalista sempre. Dai piedi dell'Etna a Milano e da qui in Cambogia, Somalia, Rwanda, Bosnia fino a con l'ultimo viaggio verso Kabul il 19 novembre del 2001, viaggiare alla ricerca delle storie dei dimenticati ai margini del mondo per dare voce agli ultimi. Maria Grazia Cotuli era così. Questa era decisamente una parte del suo carattere, questa volontà di andare, scrivere, raccontare, usare le sue parole, usare il suo stile. Nel 62 mentre in Inghilterra i Beatles pubblicavano il loro primo singolo a Catania nasceva Maria Grazia. Mamma Agata la ricorda quando già da bambina scriveva sui giornalini della scuola. Gli anni passano, la passione cresce, la marcia per diventare giornalista inizia il quotidiano alla Sicilia e all'emittente locale Telecoli. Lei voleva stare dove accadevano i fatti. Quando ci fu la caduta del muro disse io sono qua e vorrei stare là. Maria Grazia morde il freno e requieta Catania Lesta Stretta. Alla fine degli anni 80 fa le valigie e si trasferisce a Milano. Qui lavora per il femminile della Mondadori Cento Cose ma la sua penna freme ancora e così la gritta la porta al mensile epoca. Aveva una determinazione straordinaria, una caparbietà, un'insistenza. Dalla Cambogia al Congo, ad epoca Maria Grazia inizia finalmente a fare quello che le piace, viaggiare e scrivere dalle trince del dolore. Lei aveva nella testa questo schema, se voi pensate che quello non sia un posto per donne io sono pronta ad andarci e a dimostrarvi che lo è come. A metà degli anni 90 epoca va in crisi ma lei non resta a guardare, parte ancora, segue un corso di peacekeeping e poi voli in Rwanda con le Nazioni Unite. È stato un percorso che si è conquistato giorno per giorno. Ha attraversato il deserto Maria Grazia prima di arrivare al suo obiettivo. Cioè sai quelle persone la cui stanchezza si trasforma in fuoco, no? Io penso che fosse una persona così. Tornata dall'Africa, Maria Grazia si licenzia dalla Mondadori per una sostituzione al Corriere della Sera e il sogno di una vita. Dopo un anno e mezzo di contratti a termine, finalmente l'assunzione definitiva inviassò il ferito. Quando stava a Milano in redazione aveva sempre continui malanni, leggeri, psicosomatici, aveva sempre questa febbriciattola che la assediava. Bastava mandarla in qualche posto il più possibile pericoloso e le passava immediatamente tutto. Nei ricordi di chi l'ha conosciuta non c'è solo il suo lato tenace e coraggioso. Maria Grazia era sensibile, femminile, aveva un incredibile senso dell'umorismo. Così era molto divertente fare shopping con lei anche perché si provava di tutto e poi se le cose non le stavano bene dichiarava uscendo dal camerino che i vestiti erano tagliati male. Si partiva, si tornava, c'era un caos totale. E ricordo che lei ogni tanto diceva voglio le moglie quando si trovava appunto di ritorno a casa con montagne di vestiti da lavare e da stirare. Nel 2001, dopo l'attentato e le Torri Gemelle, il Corriere la manda in Pakistan. Lei, redattrice semplice, inviata per seguire la guerra contro Al-Qaeda. Maria Grazia Kutuli da Peshawah per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawah li sta trasformando in una vera e propria retrovia per lei della guerra. Dopo un mese e mezzo, con altri giornalisti riesce a entrare in Afghanistan. Raggiunge Jalalabad in attesa di poter entrare nella sua Kabul, da poco liberata dai talebani. Kabul era la città che forse amava di più, di cui mi raccontava sempre. L'avevo soprannominata la regina del Kutulistan. Era un modo per riconoscerle questo grande amore che aveva per questi luoghi. Per raggiungere Kabul da Jalalabad si deve percorrere una strada sterrata, 146 chilometri tra gole rocciose e tornanti ripidi, e una terra spesso dominata da banditi e assassini. Maria Grazia l'attraversa il 19 novembre del 2001, ma il suo viaggio si conclude vicino Sorobi, a 70 chilometri dalla capitale afghana. Ho ricevuto la telefonata di un collega della France Press che mi diceva se in Afghanistan avevamo una giornalista, una certa Maria. C'è stato un conflitto a fuoco, però ne sappiamo molto poco. Mi ricordo questa telefonata con Daniela Maui che mi disse ma è Maria Grazia. Fu un momento, forse un momento in cui tutte e due ci rendemmo conto che non l'avremmo più rivista. Io ricordo che i genitori erano nettamente convinti che Maria Grazia potesse essere ancora viva. Infatti noi quel giorno dopo uscimmo usando sempre i tempi al presente, quasi come una forma, diciamo, di ultima speranza. E quel giorno scrissi il pezzo più brutto della mia vita. Insieme a Maria Grazia sono stati uccisi anche il giornalista di El Mundo, Julio Fuentes, suo caro amico Harry Barton e Azizulay Dari della Reuters. Maria Grazia non era un'incosciente, non era su quella strada per amore del rischio. Lei è morta a 39 anni facendo solo il suo mestiere. Quello che Maria Grazia voleva fare era esserci. Guardare le cose, vedere quello che stava succedendo. Oggi Maria Grazia riposa nel piccolo cimitero di Santa Venerina, in provincia di Catania, il paese d'origine della famiglia Coturi. A disegnare la sua tomba è stato il fratello Mario. Si è ispirato anche così all'Afghanistan, questo monumento che è così semplice, e proprio c'è l'essenziale, rappresenta un po' la terra che lei, questa terra che lei amava tantissimo. Una ragazza così, innocente, sia morta, ammazzata in quel modo orribile, stupido. Manca una giornalista appassionata, manca una firma, manca una firma su questo giornale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.